A Tel Aviv in Israele è stato presentato un prototipo di cuore umano stampato in 3D, con tessuti umani e con tanto di vasi sanguigni. Un notevole passo in avanti, dicono gli scienziati, per la cura delle malattie cardiovascolari e la prevenzione del rigetto dei trapianti. Tal Dwir, docente all'Università di Tel Aviv. È la prima volta che stampiamo un cuore intero, con le sue cellule e i vasi sanguigni, e un'altra grande svolta è che viene stampato con i materiali del paziente stesso. Il laboratorio ha sviluppato la tecnologia per stampare dei cuori in 3D e tutto è basato su una piccola biopsia fatta sui tessuti adiposi del paziente. Abbiamo dell'inchiostro biologico per il cuore, abbiamo inchiostro biologico per i vasi sanguigni e usiamo una stampante 3D per stampare l'intero cuore e i principali vasi sanguigni. E questi cuori sono fabbricati partendo dal tessuto e le cellule del paziente, ha ribadito. La prossima tappa è di far maturare questi cuori in laboratorio per almeno un mese, per aiutare le cellule e insegnare loro come interagire tra esse, per produrre dei segnali elettrici e delle contrazioni sincronizzate o la capacità di pompare del cuore. In un anno o due speriamo di poter trapiantare questi cuori su un piccolo modello animale, sottopio con India rivelato. Credo che in dieci anni ci saranno delle stampanti in ogni ospedale che stamperanno dei tessuti e organi che potranno essere trapiantati sui malati.